Francesco oggi 4-1 contro il Mosciano, ottima partita da parte tua, un gol e un assist ci voleva? Beh certo ci voleva, dopo un periodo che non segnavo mi sono riuscito a sbloccare e oltre a segnare ho fatto anche un assist che ha messo in cassaforte la partita e insomma è andata più che bene Che partita è stata secondo te Francesco? Diciamo che il Mosciano aveva approcciato molto bene la partita poi alla fine siete usciti fuori, siete riusciti a accentrare questo ennesimo successo no? Sì sappiamo che il Mosciano ha dimostrato oggi di essere un'ottima squadra, infatti ci ha messo in difficoltà è andata addirittura in vantaggio, però noi come al solito se subiamo prima il gol abbiamo subito una buona reazione l'abbiamo messi subito sotto e abbiamo recuperato lo svantaggio e dopo siamo riusciti nella lunga anche grazie alla condizione fisica che di questo periodo sta uscendo fuori e abbiamo messo in difficoltà e siamo riusciti a vincere Per te ormai è un'abitudine subentrare nella ripresa, però ogni volta che entri nella ripresa dai sempre il tuo contributo come dimostrato oggi no? Dicci un po' questo discorso, se comunque c'è tanta competizione lì davanti rispetto magari all'anno scorso Beh sì certo, ovviamente quest'anno c'è molta più competizione, sono giocatori come La Selva, Maisto, De Angelis quindi ci può stare di fare la panchina, l'importante è che quando entro cerco di dare sempre il massimo e non è mai facile entrare a partita in corso e essere decisivo, io quest'anno ci sto riuscendo abbastanza spesso quando serve e spero di continuare così Parliamo un po' in generale anche delle prossime gare che affronterete Mercoledì un derby per te perché affronterete Lovidiana Sulmona che gara sarà sostanzialmente secondo te se magari è una squadra dello stesso livello vostro? Sì, il Sulmona è una squadra di buon livello è seconda in classifica nel suo girone è un'ottima squadra e credo che noi in questo momento siamo leggermente diciamo superiori credo a loro però comunque ogni partita si deve giocare e Sulmona è un'ottima squadra e staremo a vedere quello che succederà mercoledì Sempre rimanendo sia in tema L'Aquila che in tema Sulmona perché come sappiamo appunto L'Aquila potrebbe battere il record del San Nicola Sulmona se non vado errato tu c'eri in quella rosa, eri molto giovane ma c'eri e ce la può fare secondo te? Secondo me ce la possiamo fare è solo che sarà molto difficile perché insomma dobbiamo andare a giocare a Celano poi dobbiamo giocare con Montorio, Sant'Egidio insomma sarà molto difficile però abbiamo tutte le carte in regola per provarci sì, quell'anno fu un anno diciamo io ero fuori quota, avevo 17 anni, 17-18 anni insomma era una squadra di un'altra categoria Quale è delle due più forti secondo te? A livello di nomi San Nicola insomma era superiore a loro di nome però comunque noi siamo sotto ma non di tanto rispetto a quella squadra Una cosa che ho apprezzato di te Francesco è stato che praticamente a dicembre potevi essere tra i partenti, c'erano anche diverse offerte nei tuoi confronti però hai deciso comunque di rimanere con questo gruppo di cercare di lottarti la maia da titolare questo insomma è stato un fatto che ho apprezzato e che ho apprezzato anche la tifoseria Sì sì, a dicembre appunto sono state delle voci di mercato che mi volevano fuori dall'Aquila però io ho preferito restare perché non volevo diciamo abbandonare la squadra a metà campionato e sentivo ancora di poter dare qualcosa a questa squadra e spero di continuare a dare il mio contributo fino alla fine Grazie Grazie